Buonasera a tutti, ci troviamo questa sera per presentare una delle ultime stagioni delle grandi avanguardie dadaismo, surrealismo e metafisica attraverso i più grandi protagonisti poi di tutti e tre i movimenti. Questo sarà anche il mio ultimo incontro con voi, poi ci sarà il 9 giugno mi sembra, però è mia sorella. Allora, cominciamo. Noi abbiamo già visto che tutte le avanguardie cercano di rinnovare l'arte, di rivoluzionarla anzi, e vanno al di là di tutte le possibilità che erano già state sperimentate attraverso il colore e attraverso la rappresentazione mimetica della realtà. Quindi si va verso l'uso di colori non più naturalistici, verso l'uso di forme anche queste che astraggono dalla realtà, eccetera. Vedremo poi come questo percorso si spinga sempre più in là con il dadaismo, con la metafisica e con il surrealismo. Iniziamo dal movimento Dada. Dada è un movimento che nasce nel 1916, siamo in piena prima guerra mondiale, nasce in Svizzera, a Zurigo, nel Calvarei Voltaire, che è fondato da uno degli stessi rappresentanti del dadaismo, che è Tristan Sarà. Lì si riuniscono, attorno a lui, attorno a questa specie di cenacolo, possiamo dire, tante persone, tutti gli artisti, che erano contrari alla guerra, non penenti si rifugiano in Svizzera, quindi la Svizzera neutrale. Lì venivano comunque organizzate serate di incontri, di poesia, di arte, che avevano lo scopo di divertire il pubblico, quindi erano serate leggere, diciamo, venivano proposte opere provocatorie e opere a volte anche prive di senso, come la guerra che stavano vivendo in quel momento sul suolo europeo. È quindi un movimento culturale, perché coinvolge tutta la cultura, le arti applicate, le arti visive, e la letteratura, eccetera, ma è anche, ha un aspetto dissacrante, un aspetto provocatorio, e lo stesso nome, dada, è un nome che non significa nulla e che è scelto positivamente per questo. È il nome che assomiglia al balbettio dei bambini, quindi è nemmeno una parola, ma quasi è un germoglio di parola, in un certo senso. A queste serate al cabaret Voltaire a volte gli artisti, o i poeti, insomma, si travestono, come in questo caso un poeta dadaista, con un abito di cartapesta, e leggono delle poesie, a volte, come in questo caso, poemi scritti in più lingue e letti contemporaneamente. Quindi, di sicuro, l'effetto che si creava era molto straniante, anche forse ridicolo, forse divertente, di sicuro non elevato da un punto di vista della riflessione culturale. E quindi è anche interessante notare come proprio in piena guerra si cercasse comunque di tenere viva l'allegria e la dimensione ludica della vita umana, della cultura stessa. Come diceva lo stesso Tristan Sarà, nel 18, Dada è un suono che non significa nulla, è solo un suono prodotto dalla bocca. Il dadaismo ha come caratteristica quella di volersi allontanare e sovvertire tutte le regole della tradizione del fare arte. Si va verso la ricerca di una libertà creativa totale e anche attraverso il caso, attraverso l'uso di stratagemmi, di sistemi particolari. In questo caso c'è anche una fotografia che ritrae appunto il fondatore Tristan Sarà insieme con un gruppo di amici che posano per una foto giocosa, infatti un altro dei suoi amici ha la lingua fuori, viene sostenuto per le gambe. Quindi la dimensione divertente si ripercuote un po' in tutti gli aspetti. Il movimento nasce contemporaneamente a Zurigo, come abbiamo appena detto, ma anche negli Stati Uniti e poi in Germania con altri rappresentanti dadaisti. Per quanto riguarda uno degli esponenti più noti del dadaismo è proprio Marcel Duchamp, del quale parleremo più a lungo. Nasce nel 1887, è francese, ma vivrà a lungo poi negli Stati Uniti, muore poi nel 1968. A Parigi frequenta i corsi dell'Accademia di Pittura e quindi ha una formazione in certo senso tradizionale. Le sue opere si inquadrano all'interno del filione post-impressionista, le prime opere, ma già prima di aderire al movimento dadaista realizza delle opere che precorrono quelli che saranno i temi del dadaismo. Cioè già nel 13, quindi appunto prima della fondazione del movimento, realizza i primi ready-made. E poi andremo a vedere nel dettaglio che cosa sono. Ready-made è questa parola che significa appunto già fatto, già pronto. Sarà proprio Duchamp a mostrarci come la cosa più importante nel fare arte è il battesimo artistico, cioè il fatto che è l'artista a decretare che un'opera sia o meno arte. Non è tanto l'opera d'arte in sé, quindi il fatto che abbia dei crismi particolari di perfezione formale, di bellezza, di finitezza. Il dadaismo sovverte questo tipo di abitudini, di regole. Vive a lungo all'estero, vive a Buenos Aires, poi torna in Francia e dalla metà degli anni 30 resterà a collaborare poi con, prima con i surrealisti, ma poi dopo la, anzi durante la seconda guerra mondiale, con il gruppo del surrealismo americano e in generale trascorrerà la sua vita in America, tanto che prende la cittadinanza americana. Quindi vive appunto a New York. Andiamo a vedere alcune delle sue prime opere già dadaiste. Ruota di bicicletta, vediamo, siamo nel 13, quest'opera però non è l'originale. Infatti c'è la replica, sotto nella data, replica del 1951. Perché? Perché ovviamente le opere dadaiste sono opere un po' particolari, un po' non vengono subito musealizzate e conservate. Qualche volta capita, come è successo, insomma, che siano buttate via per sbaglio e è comunque un'opera d'arte così banale nella sua dimensione materiale che è facile poterla rifare, ricostruire, ripresentare. Perché non c'è l'attività manuale, lunga, la perizia tecnica dell'artista. Questo è il primo ready-made di Duchamp. È un ready-made rettificato, cioè un ready-made con un secondo intervento. Perché il ready-made in se stesso sarebbe la presentazione di un oggetto tale e quale. In realtà qui gli oggetti ne abbiamo due. Abbiamo la ruota di bicicletta e lo sgabello nel quale la ruota di bicicletta è infilata. In questo modo, entrambi gli oggetti contraddicono se stessi, perché la ruota è fatta per girare, per generare movimento. Lì è infissata su uno sgabello, quindi la ruota gira a vuoto e non può produrre lo spostamento che sarebbe il suo fine, quello di far andare una bicicletta. E quindi non può andare da nessuna parte. Ok, quindi ready-made rettificato o ready-made modificato, un ready-made un po' più complesso, diciamo così. Duchamp ci dice quindi che l'artista non ha più il compito di celebrare il bello, di celebrare la bellezza, e l'arte stessa non ha più il compito di rappresentare un'opera che dietro abbia una storia, che ci racconti qualcosa. Pensiamo per esempio ai quadri di storie, raffiguranti grandi, le battaglie di Napoleone, oppure pensiamo alla Zattara della Medusa, pensiamo a queste opere dove dietro c'erano fatti di cronaca o di guerra, fatti di politica. In questo caso è opera d'arte perché l'artista ha deciso che sia arte e la posta in un contesto artistico come può essere un'esposizione, un museo. E questo vale anche per uno dei più clamorosi, diciamo così, ready-made di Marcel Duchamp, questa fontana, che in realtà non è altro che l'orinatoio dei bagni maschili, che poi forse in Italia ne usiamo ben poco, c'era forse molto tempo fa, è più tipico dell'ambiente anche dei bagni pubblici americani. Anche in questo caso quindi è un oggetto già pronto, che non è stato modificato se non in piccola parte, cioè Duchamp ha aggiunto una scritta, una firma, R.Muth 1917, la data è quella vera, la firma è quella falsa, perché non è Marcel Duchamp, non è il suo nome. Quindi lui ha messo un nome qualsiasi e lo farà spesso nella sua carriera artistica, si firmerà Rose Selavie con alcuni di questi ritratti fotografici che sono dei fotomontaggi nei quali è un po' travestito da donna e il suo nome diventa un nome d'arte che evoca e Rose Selavie è la vita. Quindi questa attività giocosa, ludica, è sempre presente nelle opere di Duchamp, c'è questa anche volontà quasi di stupire l'osservatore, il pubblico, ma anche un po' di prenderlo in giro, bonariamente. Diventa quindi un'azione ironica quella che fa l'artista nei confronti dello spettatore e il fatto che questi oggetti siano presi e decontestualizzati crea anche un cortocircuito nella mente dell'osservatore e li rende oggetti nuovi, oggetti inediti, quindi li rende opere d'arte in questo caso. La presentazione dell'oggetto a volte è diversa da quella che dovrebbe essere in originale, perché per esempio qui è rovesciato, è appoggiato con la parte che invece andrebbe attaccata al muro e quindi inizialmente si può non capire che cos'è e quando si arriva a capirlo magari il pubblico soprattutto può scandalizzarsi e maledire l'artista perché si sente preso in giro in qualche modo. Noi adesso conosciamo questo movimento artistico ma la sensazione che ci suscita non è molto diversa da quella dei primi spettatori. Scola bottiglie, anche in questo caso, 1914, sempre prima della nascita ufficiale del surrealismo, la libertà creativa arriva fino al fatto che non abbia più importanza il processo creativo, quindi le fasi di lavoro manuale, ma il processo ideativo dell'artista e quindi l'idea di porre lì questo scola bottiglie e di dire che è arte. Ovviamente non si può pensare che lo faccio anch'io e quindi è arte, perché intanto questa fase è passata, è un secolo ormai di storia alle nostre spalle e poi la dimensione dell'arte contemporanea è andata oltre addirittura il dadaismo, quindi la performance, la body art, le installazioni, la video art, siamo al di là addirittura dei ready made ormai. Lo scola bottiglie non è, rispetto all'orinatoio, capovolto messo in una posizione diversa, è messo lì tale e quale, così com'è. Quindi la presentazione è pura e semplice dell'oggetto, così com'è trovato. Non è un ready made, quindi modificato. Questa è un'opera ormai celeberrima, penso che sarà capitato di vedere anche per caso, e rappresenta la gioconda con baffi e pizzetto. Siamo nel 1919, che cosa ha fatto Duchamp? Nient'altro che usare una riproduzione della Mona Lisa e, diciamo, sfregiarla, come potrebbe essere su un libro, su un testo di scuola o su un manifesto trovato in giro, aggiungendo con la penna questi elementi. Ma anche la scritta è dissacratoria, va letta in francese, è la show-o-cue. E quindi la provocazione è doppia, attraverso le parole, attraverso il titolo e attraverso questo elemento che va a dissacrare una delle opere d'arte che sono proprio simbolo del bello ideale, della bellezza in senso assoluto, tanto che è così celebre proprio per, appunto, la bellezza formale, l'enigma di questa donna con questo sorriso. E quindi raggiungiamo, in certo qual modo, l'apice di questo processo da parte di Duchamp. Marray è un altro artista del surrealismo, molto rappresentativo, è un americano, statunitense, lavora contemporaneamente a Duchamp, è un grande sperimentatore, soprattutto nel campo della fotografia e si forma, infatti, a New York presso Alfred Stiglitz, Alfred Stiglitz, che gli insegna un po' i segreti della fotografia e lo stesso Marray si appassiona alla fotografia ma la usa in senso assolutamente non tradizionale, che poi vedremo. utilizzerà anche lui il ready-made, realizzando alcune opere famose, sono dei ready-made modificati anche nel suo caso, con interventi che cambiano la funzione d'uso dello stesso oggetto, che non può più essere utilizzato per la funzione per la quale era stato pensato. stringe amicizia in quegli anni appunto con Duchamp e resta un sodalizio che dura per tutta la vita, un rapporto appunto amicale. Intorno al 1921 abbiamo le prime opere fotografiche di Marray in stile surrealista, cioè i suoi rayograph o rayogrammi, nei quali utilizza semplicemente la lastra fotografica e degli oggetti che imprimono la loro sagoma su questa lastra. Inventa anche un'altra cosa, l'idea del multiplio d'artista, cioè dell'opera d'arte che non è più pensata come pezzo unico ma può essere riprodotta in serie o comunque in più esemplari e questo proprio per scardinare sempre quella vecchia tradizione secondo la quale l'opera d'arte è unica e l'artista ne fa una sola e non esistono copie e le copie sono dei falsi. Questa cosa sarà portata avanti anche da altri artisti che non appartengono al surrealismo anche se a volte lo hanno attraversato in varie maniere lo stesso nostro De Chirico Magritte che rifaranno le loro stesse opere presentandole in modo diverso cioè in date diverse copiando se stessi. Abbiamo la sua adesione al surrealismo appunto negli anni attorno alla prima guerra mondiale e poi la prima rassegna surrealista nel 25. Andiamo a vedere però nei dettagli questi radiogrammi che appunto sono degli anni 20 ho messo soltanto alcuni esempi perché sono molto simili vediamo se riuscite a distinguere qualcosa di quello che compare per esempio ci sono delle cose molto facili uno o due magari ci sono per esempio dei chiodi sulla destra compaiono degli elementi opachi vedete quindi sono oggetti che hanno una grande densità come il ferro e poi compaiono degli altri elementi invece che sono più trasparenti quindi delle lampade a volte appoggiate sempre su questa lastra si tratta di un fotocontatto quindi e la lastra viene impressionata dalla luce assomigliano molto a delle radiografie ma non vengono utilizzate i raggi X ma semplicemente si ottiene un effetto di bianco e nero molto forte dove il contatto non permette assolutamente il passaggio della luce che scurirebbe la lastra e un po' più debole dove gli oggetti sono semitrasparenti la lastra non lastra la carta fotografica è illuminata per pochi secondi e in questo modo si impressiona e il resto diventa buio perché ovviamente la luce la rende buia la rende nera abbiamo appunto la lampadina che è trasparente e tutte queste cose sulla carta sono disposte in modo assolutamente casuale appunto perché anche il surrealismo è uno di quei movimenti che dà importanza al caso all'invenzione dell'artista ma anche alle dimensioni che stanno sotto il pensiero cosciente un altro esempio di radiogramma del 22 in questo caso distinguiamo una molla un altro corpo completamente opaco e qualcosa di semitrasparente che sta nella parte più alta diceva Man Ray dal dizionario del surrealismo del 38 colte nei momenti di distacco visivo durante periodi di contatto emozionale queste immagini sono ossidazioni di desideri fissati dalla luce e dalla chimica organismi viventi una descrizione un po' poetica che però ci dà l'idea che è qualcosa che prende forma su questa carta come appunto un desiderio che si concretizza e che c'è l'intervento di agenti fisici come la chimica dei solventi che sono applicati sulla carta quindi gli oggetti lasciano semplicemente un'impronta di se stessi e sono leggermente sovrapposti ad altri oggetti l'intenzione dell'artista non è quella di farli distinguere gli uni dagli altri ma quella di creare un'immagine confusa o meno ma che dia una sensazione un'impressione allo spettatore ecco qua uno di questi ready made tipici di Marray un ready made modificato cadò quindi è un regalo 1921 un ferro da stiro tipico degli anni 20 insomma dell'inizio del novecento di farli da stili che andavano semplicemente scaldati che però contraddice la sua stessa funzione perché se vado a stirare con i chiodi non stiro ma distruggo buco la superficie e quindi è sempre un significato ironico un significato ludico di quest'opera anche di questa appunto come dicevamo prima Marray fa più esemplari e quindi questi multipli d'artista queste opere che compaiono in più versioni che contraddicono l'idea di autenticità è un oggetto che quindi non ha più la propria funzione è snaturato anzi in un certo senso è come se andasse a fare il contrario perché stirando in questo modo vado a danneggiare e abbiamo sempre questa idea fondamentale l'opera d'arte è tale perché c'è un'idea sotto che è l'idea dell'artista è questa che fa nascere un'opera d'arte e questo concetto sarà alla base di tante opere contemporanee anche dei nostri artisti più dissacratori come sarà Alessandro Manzoni famoso discendente anche dello stesso scrittore che è quello che realizza la famosa merda d'artista nella scatola che dice tutto ciò che fa l'artista è arte e quindi andiamo in scatolare e lo mettiamo lì e si può vendere si può esporre perché è arte arriva proprio il paradosso anche lo stesso Manzoni aveva attraversato varie correnti velocissimamente come surrealismo dadaismo e metafisica fino ad approdare ad una morte prematura per un improvviso infarto che aveva soltanto 30 anni però è stato estremamente diciamo rapido insomma una carriera fulminea che ha attraversato un po' tutte le correnti e quindi l'opera d'arte non dipende dall'abilità tecnica dell'artista questo contraddice anche la parola stessa arte che è legata al fare insomma al produrre la tecnica la tecnè ma sta tutto nel concetto in Germania abbiamo invece un altro rappresentante che è Raoul Hausmann nasce in Austria ma poi lavora e studia in Germania a Berlino e qui nel 18 fonda insieme a Gross Hertfeld Hertfeld Hannah Hock Richter il club Dada in questo caso è un dadaismo più impegnato sul versante politico proprio perché in questi anni in Germania sono cruciali la scesa del nazismo sono situazioni anche di maggiori turbamenti politici e quindi utilizzerà il suo fotomontaggio del quale è considerato l'inventore a volte anche per lanciare dei messaggi politici appunto e creare una sorta di manifesto o più manifesti contro Hitler contro il regime nazista e utilizzerà quindi immagini ritagliate incollate insieme e interventi pittorici come in questo caso abbiamo Tatlin a casa del 1920 in cui abbiamo l'immagine di Tatlin quindi c'è il riferimento al costruttivismo russo di cui Tatlin è rappresentante inserito all'interno di una specie di ambiente che possiamo intuire quasi questa scatola dalla presenza delle assi del pavimento e la stanza è soltanto però evocata e popolata da alcuni personaggi che appunto sono ritagliati da fotografie e sono inseriti su questa nello stesso ambiente con alcuni interventi un po' fuori dal loro contesto come questi elementi meccanici che stanno nella mente del progettista della terza internazionale e appunto insomma c'è un'attenzione maggiore ai movimenti di protesta da parte di Hausmann attraverso questi volantini questi manifesti che sono fatti anche da Anna Ock da altri artisti dadaisti però siamo in una dimensione che travalica il dadaismo stesso cartesuiters che invece sviluppa una ricerca attraverso l'assemblage di elementi polimaterici che vengono assemblati appunto messi insieme per esempio in questo caso sono pezzi di legno quindi il materiale in questo caso però è lo stesso però di varia provenienza di varia forma trovati sul mare sulla spiaggia e quindi creano delle composizioni assolutamente arbitrarie che vagamente ricordano qualcosa come potrebbe essere un sommergibile in questo caso ma sono soltanto intuibili ecco queste forme non sono non c'è l'intenzione di riprodurre in maniera fedele mimetica un elemento reale come appunto un sommergibile anche perché il materiale usato non è il metallo ma è il legno invece per venire all'Italia in questi stessi anni nasce la metafisica che è fondata da Giorgio De Chirico nasce a Ferrara nasce dall'incontro di De Chirico con Carlo Carrà e poi Filippo De Pisis proprio negli anni della guerra in cui in qualche modo si incontrano anche attraverso il rifiuto il tentativo di evitare la guerra di Giorgio De Chirico era stato chiamato alle armi proprio allo scoppio della guerra come prima come leva come servizio di leva e poi come militare la metafisica è molto diversa dal grande movimento artistico che aveva dominato e stava ancora dominando quel periodo che è il futurismo il futurismo era interventista e richiedeva vedeva nella guerra la sola igiene del mondo come abbiamo detto l'altra volta invece la metafisica si oppone alla guerra a un credo anche non nel presente nel tumulto della vita contemporanea ma piuttosto nel fascino dell'antico nel silenzio nei miti antichi in una dimensione di quiete di pace nell'immobilità anche delle grandi opere antiche per esempio le sculture che sono fisse immobili quasi imperiture Giorgio De Chirico è italiano ma nasce in Grecia e lì frequenta anche gli studi classici al liceo e si trasferisce soltanto nel 1906 in Italia e la cultura della Grecia antica permea il suo stesso immaginario e molto importante per lui tanto che ritorna sempre nelle sue opere questa costante dei riferimenti alle sculture greche alle opere anche dei miti e quindi alla tradizione letteraria i suoi quadri raffigurano una realtà spesso misteriosa e inquietante non tanto per quello che compare perché non ci sono mostri non ci sono elementi che turbano ma è il modo in cui le composizioni vengono create e che ci danno ci restituiscono un senso di inquietudine i suoi personaggi sono quindi muse eroi antichi ma realizzati in maniera straniante per esempio attraverso il ricorso al manichino il manichino sartoriale che è uno degli elementi tipici della poetica di De Chirico e anche quelli che ci permettono di identificare subito una delle sue opere dal 1910 poi inizia la serie delle piazze d'Italia che continua a fare per decenni in tante versioni diverse alle quali inserisce queste grandi piazze rinascimentali oppure rinascimentali quattrocentesche cinquecentesche nelle quali vengono accostati gli elementi della modernità del suo tempo quindi le grandi ciminiere quelle per realizzare i mattoni che noi abbiamo ancora tanto nel nostro paesaggio e anche nelle zone di Ferrara che lui aveva avuto modo di vedere nell'ospedale militare quando era stato ricoverato quindi quando era Ferrara e sicuramente sono rimaste anche questo nel suo immaginario un'altra delle influenze tipiche che subisce la metafisica e quindi anche De Chirico è la filosofia di Schopenhauer secondo la quale l'immagine del sogno susciterebbe desiderio e sorpresa offrendosi da un lato al dormiente con la sua realtà dall'altro al di là delle umane possibilità di azione cioè il sogno diventa un elemento che l'artista cerca di tradurre nella sua opera perché suscita in lui desiderio e nello stesso tempo la consapevolezza che è qualcosa di irraggiungibile e va al di là delle sue possibilità di azione e quindi le opere metafisiche e di De Chirico hanno spesso questa dimensione onirica di sogno appunto quest'opera volevo farvi notare non so se si vede che è in grassetto la data anni 50-60 si trova a Firenze e Palazzo Pitti tenetelo a mente che adesso andiamo a vedere perché non siamo più negli anni della metafisica il termine metafisica cosa significa? significa al di là della fisica deriva dal greco la metafisica era anche uno degli scritti di Aristotele se non dico male e in questo caso venne usata però da De Chirico per indicare un mondo tradotto in pittura che va al di là della realtà esperibile con i sensi e della realtà fisica delle cose dove ciò che appare ciò che compare ha un aspetto fuori dall'ordinario straordinario anomalo spesso enigmatico quest'opera si intitola composizione metafisica ed è la copia realizzata dallo stesso artista negli anni 50-60 di un originale sempre suo del 14 quindi piena metafisica e lo stesso De Chirico va dietro la firma e la data dicendo ho realizzato di mia mano quest'opera ed è conforme all'originale in ogni sua parte proprio perché c'è questa idea che l'opera d'arte non è più un unicum ma può essere riprodotta a maggior ragione se è lo stesso artista a farla e è un'operazione che compierà spesso De Chirico riproponendo con leggere variazioni di stile opere del suo periodo metafisico soprattutto o in generale ricitando se stesso e riproducendole vediamo in questo caso la stranezza di quest'opera abbiamo una testa di una statua antica un guanto di gomma come potrebbero essere non so quelli per lavare i piatti quelli per fare lavori un po' come da meccanico una palla da tennis e poi questi portici con gli archi a tutto sesto tipici quindi della tradizione romana classica la serie delle piazze d'Italia che sono luoghi deserti popolati a volte da nessuno a volte da figure piccole lontane silenziose dove compaiono appunto delle persone isolate che hanno queste lunghe ombre che si distendono al suolo l'illuminazione è molto particolare una luce forte che però determina ombre lunghe come quelle tardo meridiane tardo pomeriggio gli esseri umani sono quasi come le sculture li presenti sono immobili sono fissi e la prospettiva in molte opere di De Chirico non sono nelle piazze d'Italia in quasi tutte è innaturale a volte anche contraddice se stessa all'interno della stessa opera e comunque è troppo accentuata non è precisa non è come dovrebbe essere scusate ho una zanzara che mi sta girando intorno quindi le ombre sono troppo lunghe sono irreali anche nel loro caso e queste piazze in generale ricordano un po' la bellezza deserta di Ferrara questa bellezza caratterizzata dai portici della presenza degli edifici rinascimentali dal mattone oppure dalla pietra delle sue mura e i grandi porticati appunto anche in questo caso con gli archi è tutto sesto questa opera che inserisce in più di una questa scultura insomma che occupa il centro della composizione e che inserisce in più di una opera relativa alle piazze d'Italia è una coppia di una statua antica una Arianna dormiente una Arianna lasciata da Teseo un'altra piazza d'Italia ve la propongo sia perché vi compaiono alcuni degli elementi vedete come li accosta in modo diverso li sposta sembra quasi un po' un gioco di puzzle e di nuovo quindi questa scultura al centro molto spesso compaiono degli elementi simili come questa specie di quinte architettoniche quinte sceniche di due palazzi ai lati e poi un edificio piante centrale al centro sullo sfondo lontano e nel mezzo della composizione il monumento con queste figure solitarie che a volte sono a destra a sinistra notate questi archi dovrebbero ricordarvi qualcosa che sta a Roma e che è il diciamo Colosseo coi buchi che è la famosa monumento o palazzo insomma della civiltà italiana Colosseo quadrato e a questa tipologia di arco a tutto sesto lo stesso regime si richiamerà perché si richiama la tradizione che ha fatto grande l'Italia che ha fatto grande Roma quindi appunto l'impero romano e siamo in una contemporaneità appunto temporale tra queste opere di De Chiri col periodo della metafisica e queste architetture le muse inquietanti molto caratteristica molto famosa queste muse sono delle statue con testa di manichino quella in piedi ha il fusto di colonna scanalata come le colonne doriche ha una testa di manichino appunto manichino da sartoria molto grande quindi anche sproporzionata è vista di spalle l'altra è seduta e la testa però non è più infilata ma si trova ai suoi piedi è una testa di stoffa e quindi in questo caso contraddice la materia di cui è fatta la statua che era di pietra o di marmo di nuovo degli elementi tipici questo qui è proprio il castello di Ferrara con un colore rosso accentuato delle statue anche sullo sfondo e poi degli altri oggetti delle scatole un bastoncino da zucchero che sono quindi fuori luogo ci creano un effetto di straniamento di una dimensione unirica anche in questo caso perché solo il sogno ci può presentare degli elementi così strani accostati gli uni agli altri ecco il castello che vedete non è così scuro non è così rosso però è quasi una riproduzione molto fedele e sullo sfondo abbiamo anche la fabbrica con le ciminiere che non è in questa posizione sicuramente a Ferrara ma che è presente nella città lì vicino al centro storico e poi abbiamo un palazzo invece immerso nell'ombra l'ombra si proietta su questo pavimento chiamiamolo così che sembrano di nuovo tavole di palcoscenico i colori utilizzati sono molto saturi sono molto carichi sono caldi e tutte le figure sono delineate in maniera precisa con una netta linea di contorno utilizzando dei colori molto accesi molto violenti anche qui siamo nel 17 quindi piena epoca metafisica le persone non compaiono in quest'opera ci sono solo statue quindi questo ci dà un po' anche l'idea di questa dimensione forse anche della solitudine che veniva avvertita dall'uomo moderno dove le città si riempiono però le persone non si conoscono sono le une isolate rispetto alle altre e appunto dicevamo delle assi di legno che ci ricordano una scena teatrale le ombre lunghe che abbiamo già trovato il paesaggio vuoto e poi questo senso anche di disorientamento della percezione nostra come spettatore perché abbiamo degli elementi decontestualizzati presenti tutti insieme nello stesso momento quindi anche in questo senso forse ci viene resa il sentimento di angoscia della città moderna che crea un effetto di spaesamento alle persone una città che cresce vertiginosamente rapidamente nella quale l'uomo si trova un po' sperso un'altra opera famosa è Ettore e Andromaca vedete come tornano questi manichini sono statue e mezze manichini sono manichini e basta manichini con stoffe arrotolate Ettore e Andromaca quindi il mito antico la fedeltà di Andromaca per Ettore questo amore coniugale incondizionato e in questo caso si dice insomma che la presenza del manichino nelle opere di De Chirico fosse stata ispirata da una opera scritta dal fratello Alberto Savinio che è lo pseudonimo di Andrea De Chirico che cambiò nome proprio per distinguersi dal fratello e fu poi uno dei grandi esponenti anche lui del surrealismo Andrea o Alberto Savini e protagonista di quest'opera era l'uomo senza volto quindi la mancanza di volto il manichino manichino di Sartoria soprattutto non ha non ha una faccia non ha un'espressività l'uomo manichino quindi potrebbe alludere in generale anche all'uomo contemporaneo a cui manca la personalità che finisce per essere svuotato le ombre lunghe tardo-meridiane anche in questo caso una prospettiva estremamente accentuata e ai lati degli edifici o degli oggetti che potrebbero ricordare delle quinte teatrali quindi siamo in un contesto inabitabile in un contesto non realistico solo un palcoscenico dove due attori per un attimo recitano il mito di Ettore e Andromaca Carlo Carrafu ah accidenti ci dovrebbe essere una scritta ma appare e scompare secondo che ve la smaterializzo a attimo Eccoci, allora Carlo Carrà è stato uno dei grandi protagonisti della pittura italiana ed ha partecipato e aderito a diversi movimenti, in un certo senso attraversati tutti, perché è stato prima futurista, poi ha aderito alla metafisica, quindi un movimento diametralmente opposto e è passato poi all'arte, al ritorno diciamo all'arte tradizionale attraverso la presenza all'interno di Valori Plastici poi di Novecento Italiano, dove si ritorna ad una pittura di stampo tradizionale, diciamo così, negli anni venti. E' un artista quindi molto poliedrico e anche che ha saputo tenere una grande vitalità nell'arte italiana di quell'epoca. Una delle sue opere però del periodo metafisico è appunto la Musa Metafisica, dove compare un grande manichino in una stanza sottodimensionata rispetto alle misure di questo manichino. Anche qui siamo in presenza di alcuni degli elementi tipici che avevamo già visto, quindi questa luce laterale che crea delle lunghe ombre, degli forti effetti di luce e ombra di chiaro e di scuro, la presenza di oggetti inanimati come questa cartina geografica, un quadro, questa grande piramide, un mobiletto ai lati, e la Musa in se stessa quindi ha alcune caratteristiche un po' inquietanti, perché si presenta come un personaggio, che è questa statua che ricorda una giocatrice di tennis, che però appunto è o troppo grande o la stanza è troppo piccola per lei, ed è vicina ad un tavolo che non rispetta le proporzioni del manichino. La cartina rappresenta l'Istria, che era stata conquistata dall'Italia a seguito della Prima Guerra Mondiale, quindi è come dire la novità proprio contemporanea del periodo in cui è realizzata l'opera, e poi abbiamo sullo sfondo questa piramide, che è di nuovo sovradimensionata ed è un oggetto fuori luogo, perché probabilmente sarebbe un piccolo oggetto di legno da tenere su di un tavolo, invece è una stanza abitabile, è una casa di bambola, qual è reale e cosa no? Che cos'è la mia misura come uomo? Che cos'è più grande di me o più piccolo di me? Noi facciamo fatica a trovare un punto fisso in un certo senso, cioè a capire e a orientarci all'interno di quest'opera. Un altro esponente, che è stato anche lui, appartenente alla metafisica, prima di iniziare un percorso assolutamente personale, è stato Giorgio Morandi, che è famoso per le sue nature morte di bottiglie bolognese, ha lavorato tantissimo, quindi anche con queste nature morte quasi monocromatiche, però ha attraversato il periodo della metafisica. E in quest'opera ci presenta una natura morta metafisica, dove compaiono pochi elementi essenziali, realizzati con delle linee molto nette e precise, una sfera, un bastoncino e delle sagome, che probabilmente si riferiscono alla sagomatura del legno oppure la sartoria. E sono quindi forme geometriche, semplici pure. A questo tipo di purezza, di semplicità, Morandi resterà sempre fedele. Poi l'elemento tipico della metafisica, queste lunghe ombre, queste luci forti, si ritrova in tutti questi artisti. Abbiamo visto Carrà, appunto Morandi e anche lo stesso De Chirico. Passiamo invece, torniamo in Francia, con il surrealismo, che ha alcuni esponenti famosissimi, come René Magritte, Salvador Dalì e Juan Miró. Il surrealismo nasce nel 1924, è l'ultimo grande movimento d'avanguardia. Viene pubblicato anche per questo movimento un manifesto ad opera di uno scrittore, di un poeta, che è André Breton. Quindi è un movimento che abbraccia più aspetti dell'arte, non solo delle arti visive, ma tocca poi la fotografia, tocca anche il cinema, il teatro e, appunto, la pittura e la letteratura. Anche per il surrealismo, la dimensione unidica ha grande importanza, però soprattutto è stato molto sollecitato, diciamo, dalle scoperte di Freud, e quindi dalla scoperta dell'inconscio, e quindi dalla presenza nella mente umana di una dimensione che non si può controllare e che emerge in particolari stati di coscienza. Emerge, per esempio, attraverso il sogno, ma anche attraverso stati che simulano momenti di alterazione della coscienza, come cercherà di fare Salvador Dalì per le sue opere, per la realizzazione delle sue opere. Ecco, questa che abbiamo qui accanto è un'opera di Magritte che è surrealista perché vediamo, è un gioco tipico di Magritte, quello di presentare un'immagine e una parola e le due cose si contraddicono a vicenda. Per esempio abbiamo l'uovo, ma sotto c'è scritto la caccia, sembra quasi un sillabario tutto scombinato, una scarpa, ma è la lune, una bombetta, ma è la neige e poi abbiamo la fiamma con la candela, le plafond, quindi invece il soffitto, l'orage, che è il temporale, e le desert, il martello, che non c'entrano assolutamente niente. Quindi ci sono tutti questi elementi strani, messi come in un quadretto, ma non c'è combinazione. Le opere surrealiste, quindi, vogliono rappresentare il sogno, l'allucinazione, il ricordo, a seconda anche dei vari artisti che frequentano questo movimento. Ci sono elementi, anche in questo caso, a volte buffi, ma spesso accostati in maniera arbitraria, a volte inquietante, di sicuro sorprendente, e tutti questi artisti sperimentano anche tecniche diverse che vanno al di là della pittura. Il termine surrealismo deriva dal francese, appunto è un altro movimento che nasce in Francia, e significa appunto realtà superiore, sopra la realtà, surreality. Ma, abbiamo già parlato di Freud, i principali esponenti, appunto le biologie ha nominati, da lì abbiamo anche Max Ernst, e poi è lo stesso Alberto Savinio che avevo nominato prima. Breton dirà che gli artisti poi hanno anche la libertà creativa e quindi possono attraversare tante forme artistiche diverse, passare dal pittorico allo scultorio, l'astratto, il figurativo, e quindi c'è la totale libertà. Le cadavre eschi. Questo è un gioco che hanno sperimentato i surrealisti, tanto con le parole quanto con la pittura o col disegno. Ed è un gioco che si può fare anche adesso con i ragazzi, soprattutto per stimolare un po' la creatività. E consiste nel prendere un foglio di carta e piegarlo in tre parti o anche in più, passarlo tra i componenti partecipanti a questo gioco e ognuno di loro deve disegnare qualcosa ma senza vedere cosa ha fatto l'altro. Quindi deve essere sempre piegato, resta fuori solo un pezzettino in modo da poter continuare giusto sulle ultime linee tracciate ma non si sa cosa si sta continuando. E questo è uno degli esempi di una delle prime opere realizzate proprio dagli artisti del movimento surrealista in cui è emersa una figura assolutamente strana, un po' antropomorfa, un po' animale. Questo per esempio è l'intervento di Miró che si riconosce, questo mi sembra Max Ernst e poi c'erano altri due artisti e quindi è un aspetto surreale che scaturisce da quest'opera. Si può fare anche con le parole e infatti il primo Cadavre Eschi realizzato con le parole diede come frase le Cadavre Eschi voerà le vin nouveau verrà il vino nuovo è venuta fuori una frase senza senso ma c'erano delle regole sequenza sostantivo oggettivo verbo sostantivo oggettivo però le parole sono pescate a caso o scelte a caso e quindi ne nascono delle frasi assolutamente ridicole divertenti e anche in questo caso quindi surreali. Salvador Dalì è nato nel novecento vedete come ci avviciniamo ormai al secolo scorso abbiamo lasciato l'Ottocento 1904-1939 una vita molto lunga ha un nome lunghissimo anche noi lo conosciamo però come Salvador Dalì Salvador Felipe Jacinto Dalì Idomenec Catalogna Spagna quindi frequenta l'Accademia di Belle Arti a Madrid diventa amico di Federico Garcia Lorca poi però si trasferisce a Parigi e lì incontrerà i grandi di questo periodo artistico Picasso ma poi soprattutto i surrealisti con i quali entra crea un sodalizio già nel 28 negli Stati Uniti si fa conoscere attraverso delle mostre personali poi compierà dei viaggi soprattutto in Italia dove si avvicina l'arte del XVI-XVII secolo tanto che poi c'è una produzione di Salvador Dalì che va al di là del surrealismo si avvicina anche molto alla produzione di opere religiose molto particolari ma molto realistiche durante la seconda guerra mondiale trova rifugio negli Stati Uniti ma poi al termine della guerra torna in Spagna e continua a lavorare e a vivere di pittura insomma fino alla fine della sua vita questa è una delle opere più famose gli orologi molli che si intitola in realtà la persistenza della memoria del 31 la memoria è simboleggiata proprio dalla presenza degli orologi che compaiono e che sono molli tutti tranne uno tutti hanno queste forme appunto un po' particolari e vanno in varie direzioni le loro lancette quindi il tempo sembra scorrere in direzioni diverse è un tempo sospeso è un tempo che non segue l'ordine delle cose tranne appunto l'orologio che compare in primo piano che è aggredito dalle formiche ecco li abbiamo individuati tutti questo orologio molla è posato su una strana specie di faccia sembra un pollo in realtà è una specie di ritratto di Salvador Dalì stesso ma molto diciamo sintetico sintetizzato nei suoi dettagli ed è molto surreale ecco qua quindi gli orologi molli che vediamo in giro uno, due, tre e poi l'ultimo che è in un certo senso il tempo passato il tempo finito e quindi è il tempo che viene divorato che non esiste più solidificato concretizzato ma anche divorato poi abbiamo l'apparizione di un volto di una fruttiera sulla spiaggia e è un'immagine di quelle anamorfiche delle immagini volutamente che cambiano a seconda della nostra prospettiva del nostro punto di vista ed è realizzata con il metodo della paranoia critica metodo paranoico critico cioè diceva da lì che stava a fissare la tela per tutta la giornata aspettando che le fantasie della sua mente si concretizzassero sul quadro e quando si sovrapponevano perfettamente al quadro le fissava immediatamente e le dipingeva e quindi era quasi un lavoro per fare forza su se stesso e generare uno stato mentale alterato attraverso il quale emergevano le sue fantasie e emergevano simboli ricordi paure che poi venivano concretizzate attraverso la pittura visioni quindi da sogno come questa dove compare un volto ma possiamo riconoscere degli elementi che sono appunto questa specie di fruttiera qua ci sono quasi delle pere o dei riccioli di questa testa e poi abbiamo anche degli altri particolari in questa immagine ambigua per esempio c'è un cane che compare se lo guardiamo attentamente adesso lo sfondo e poi molti altri personaggi che popolano l'opera sul retro vedete delle figure molto più grandi altre più piccole altre accovacciate e sono quindi queste immagini ambigue ma ricche anche di simboli la disintegrazione della persistenza della memoria è un'opera realizzata no la data è sbagliata qua è del 50 degli anni 50 come c'è scritto qua sotto perché dopo lo scoppio della bomba atomica a seguito della seconda guerra mondiale da lì riflette anche sulla relatività di Einstein soprattutto su come è fatto un atomo come è fatto il nucleo della materia come sono fatte le molecole con l'idea appunto che ci sono tutti questi piccoli elementi atomi elettroni neutroni che girano vorticosamente senza mai toccarsi e senza avere un supporto e quindi la persistenza della memoria che abbiamo appena visto si disintegra gli elementi si sfaldano l'acqua sale a un livello superiore e vedete che anche l'albero per esempio si spezza si scompone nelle sue parti i supporti di roccia diventano quasi dei cubi galleggianti quindi l'assenza di gravità come all'interno dell'atomo sembra dominare la rappresentazione stessa la scienza oppure anche la filosofia insomma le invenzioni tecniche di quell'epoca poi hanno un grande influsso anche sugli artisti per quanto riguarda il surrealismo abbiamo anche il cinema surrealista Salvador Dalì collabora a un famoso film surrealista che è Enchè Nandalu dove ci sono delle sequenze anche a volte un po' truculente in un certo senso come quella finale ma sono delle scene casuali montate in successione senza un vero e proprio senso narrativo ci ricorda sempre la dimensione del sogno quindi abbiamo una mano che tiene delle formiche poi un uomo che taglia con una lametta gli occhi di una donna che sta lì seduta ecco questa sequenza è volutamente scioccante insomma per il pubblico perché è anche irreale e improvvisa e hanno spesso usato elementi particolari creando anche delle specie di sculture come in questo caso abbiamo telefono a ragosta e da lì è amante di questo tipo di oggetti il telefono le ragoste che compaiono nelle sue opere come simbolo anche di passionalità desideri dell'inconscio che si concretizzano e sono due elementi che non stanno insieme tra loro e che vengono giusto apposti dall'artista e per ultimo René Magritte 1898 1967 Magritte è belga dal lato del francofono e nel 1912 subisce il grave lutto della perdita della madre che si suicida gettandosi in un fiume e questo avrà un eco forte nelle sue opere dove compariranno delle donne con il volto nascosto da un telo così come era il cadavere della madre che è stato ritrovato e studia l'Accademia di Belle Arti di Bruxelles poi si stabilisce a Parigi e incontra il gruppo dei surrealisti Dalì e Miró in particolare e quindi inizia a dipingere le sue opere surreali sono opere che ingannano i nostri sensi che creano dei cortocircuiti degli effetti di spaisamento ci danno l'impressione che anche quando siamo di fronte a qualcosa di estremamente realistico a un ambiente conosciuto in realtà è tutto decontestualizzato e irreale quindi abbiamo per esempio la famosa assassina e pine pip non è una pipa perché è disegnata quindi non è una pipa ed è molto logico ma facciamo fatica ad accettarlo ed è realizzata anche in modo preciso e puntuale quasi fotografico proprio perché questo scarto tra la scritta e l'opera sia ancora maggiore le immagini quindi ci possono confondere possono farci credere che siano oggetti reali quando non lo sono il falso specchio del 28 in cui abbiamo anche qui tutto un gioco tra titolo e opera cioè lo specchio è forse l'occhio che sta riflettendo quello che la persona guarda oppure è nell'occhio che si sta semplicemente specchiando il cielo e quello che c'è qui tutto nero è un sole nero o è la pupilla al centro dell'occhio facciamo fatica a capire e decifrare questa immagine che comunque è un occhio gigantesco perché occupa tutta la tela e quindi in questo caso ci troviamo di fronte ad una figura ambigua per quanto siano diverse da quelle di Salvador Dalì l'uomo e la notte invece crea un'ambiguità tra figura e sfondo perché la figura dovrebbe essere l'uomo ma dietro di lui vediamo lo sfondo anzi attraverso di lui quindi è come se avesse bucato una superficie e non riusciamo a capire allora che cosa viene rappresentato poi abbiamo un muretto davanti iperrealistico e quindi sembra veramente reale e questo scarto tra realtà e finzione è proprio reso più forte dalla pittura dallo stile pittorico di Magritte il mondo di Magritte quindi è sempre poetico è sempre lieve lo spaesamento ci crea un sentimento di dubbio di inquietudine di incertezza ma non ci crea angoscia compaiono i suoi classici uomini con la bombetta questi borghesi parigini come borghesi era lui a volte si autoritrae con questo cappello e senza volto molto spesso quindi girati di spalle o con qualcosa davanti che li nasconde anche in questo caso c'è l'idea che ci sia un po' di anonimato di questi personaggi qualcosa di segreto di nascosto qualcosa che da questi personaggi non traspare noi non possiamo completamente cogliere un'altra opera molto famosa è l'impero delle luci del 54 dove c'è un contrasto tra colore del cielo che è diurno e ambiente sottostante che invece è immerso nella notte ci sono questi lampioni che fanno luce la casa è illuminata e anche qui ci crea un paradosso visivo non riusciamo a decifrare e a decidere che cosa che ambiente è che cosa sta succedendo tutto è dipinto con grande precisione ma è l'accostamento che è paradossale che è inconsueto e Golconda invece ecco qua i suoi uomini in bombetta che piovono come fanno a piovere uomini persone hanno l'ombrello il soprabito e sono in questo caso dei paesaggi che ci creano spaisamento e sono essi stessi quasi personaggi spaesati diciamo nella dimensione dell'assurdo oltre che dell'onirico e attorno ci sono tutte le case quindi sembra un contesto assolutamente reale sembrano tante Mary Poppins che piovono giù Golconda curiosità Golconda era una città dell'India meridionale che era piena di risorse minerarie cioè cimenti di diamanti e che poi però una volta sfruttata venne abbandonata quindi una città deserta disabitata in stato di abbandono e quindi all'epoca era però simbolo di questa ricchezza incredibile e quindi di questa pioggia probabilmente per cui lo viene chiamata così ultimo protagonista Juan Miró 1893 1983 sono un po' l'anagramma Juan Miró è spagnolo e tutte le sue opere sono giocate sulla dimensione ludica giocosa e fantastica tanto che appunto è uno degli artisti più amati del novecento proprio per questa sua dimensione piacevole partecipa al dadaismo e poi al surrealismo nel 24 inizia a dipingere e si dedica però anche ad altre tecniche quindi papi e collè cioè il collage la litografia quindi l'uso della stampa su pietra litografica e poi infine la scultura e è la sua attività prevalente per l'ultimo vent'anni della sua vita diciamo così anche lui lascia la Spagna durante la guerra civile e vi ritorna solo più tardi come abbiamo già visto Picasso tutti questi grandi artisti spagnoli la grande stagione della Spagna trapiantata a Parigi questa di questi anni del novecento Juan Miró quindi trasforma la realtà in immagini astratte ma a volte la realtà è ancora riconoscibile per esempio questo paesaggio catalano abbiamo alcuni personaggini che hanno stanno facendo qualcosa che sono da interpretare ci sono linee curve quindi ondulate che rappresentano la vita animale vegetale molto spesso la vita microbica o di piccoli organismi o degli insetti le forme geometriche che ci ricordano invece il mondo inanimato e ecco l'altro titolo di quest'opera è Il Cacciatore quindi andiamo a vedere dov'è Il Cacciatore che è questa figura ingrandita che tiene in mano anche una specie di fucile con la fiammella davanti e poi abbiamo invece il suo preda che è qua in basso che sembra quasi un pesce gigantesco uno strano esserino mezzo volante non si sa cosa sia che ha una lingua rossa i baffi e quindi un insetto alato uno strano mostro e poi c'è una scritta Sard che indica la sardana che era una danza popolare catalana in mondo quindi della Spagna da cui proviene Juan Miró Miró che si è definito un eterno bambino vuole trasmettere quindi il piacere del gioco della gioia della scoperta del divertimento attraverso le sue opere attraverso il colore anche è sempre un colore brillante e gioioso in generale nelle sue opere le forme sono distribuite nello spazio per accostamenti e anche per sovrapposizioni e sono quindi di difficile riconoscimento ma sembrano derivare da forme più complesse che vengono sempre più semplificate dall'artista fino ad essere tradotte in piccoli segni in piccoli organismi in un certo senso e anche in questo caso c'è sempre questo riferimento alla memoria all'inconscio alla dimensione onirica il carnevale di Arlecchino che questo è molto famoso degli anni 20 in cui compare Arlecchino eccolo qua eccolo qui che ha una faccia rotonda con i baffi lunghi lo sguardo stralunato porta in testa un cappello da ammiraglio ha la pancia con un buco perché ha la forma di una chitarra dei piccoli piedini un golfino con gli scacchi e a questa faccia un po' triste forse forse perché l'artista non passava un buon periodo economicamente parlando tutte queste figure in generale anche nelle opere precedenti che abbiamo visto sembrano fluttuare nell'aria quindi c'è questa dimensione immateriale o comunque che sembra resistere alla forza di gravità compaiono poi altre figure animali il gatto con i baffi il gomitolo degli altri esseri poco riconoscibili e poi altri elementi inanimati che però presentano qualcosa di umano come questo orecchio sulla scala un occhio qua in alto e altri esserini volanti che sono difficili da riconoscere perché sono connubi anche tra cose esistenti tra animali veri e semplici invenzioni diceva Miró ho sempre cercato di approfondire il lato magico delle cose e quindi questa dimensione non è solo ludica ma è anche magica magico come quella dei bambini insomma una dimensione del fantastico dell'immaginario e abbiamo poi un'opera della scultura di Miró tanto per presentarlo tutto nella sua complessità di artista e grazie all'artista Alberto Giacometti artista svizzero Miró impara a realizzare delle sculture e a realizzarle attraverso delle vernici colorate quindi diventano molto più brillanti e esplora vari metodi tra i quali per esempio la verniciatura del bronzo quindi abbiamo questa ragazza in fuga del 67 con le tinte brillanti che caratterizzano anche la produzione pittorica di Miró e sono oggetti diversi assemblati insieme gambe di manichino pompa di idrante qua sopra e poi una strana faccia al centro un po' sospesa anche in questo caso il linguaggio di Miró è quasi una scrittura figurata soprattutto in alcune opere vedete dove domina in questo caso il nero però sembrano dei geroglifici sembrano dei messaggi cifrati c'è una faccia qua sotto con i baffi sembra un gatto degli occhi sospesi e altri piccoli elementi particelle e quindi sembrano gli elementi naturali che vengono semplificati ridotti a forme essenziali i colori che abbiamo visto fin qui sono generalmente i colori primari abbiamo i rossi accesi blu luciano rosso magenta giallo cadmio sono questi colori poi con l'aggiunta del nero il re i garel che ha la predominanza invece del nero in questo caso e ci sono delle macchie per darci l'impressione degli occhi del volto e quindi sembra un re con la faccia corrucciata però vediamo di nuovo i colori rosso giallo e blu i suoi colori dominanti ecco e con il re gare abbiamo finito e vi ringrazio per l'attenzione mi spiace per i disguidi tecnici dell'inizio ma questa è la vita quindi ci sono anche gli inconvenienti grazie per la vostra attenzione grazie a tutti grazie a tutti